Queste vicende che ci stanno colpendo in questi giorni con il coronavirus ci hanno veramente tagliato le gambe. Chiaramente sappiamo che il problema principale è quello sanitario, che tutte le persone che ne sono state colpite debbano avere un'assistenza immediata e veloce nella guarigione. Però mi sarebbe piaciuto molto rimarcare il fatto che noi abbiamo avuto un danno economico non indifferente perché innanzitutto tutte le ordinazioni dei vari ristoranti e pizzerie della zona, tutti i clienti che ci avevano fatto degli ordini per tutto il weekend e tutto il materiale che abbiamo preparato per passare il weekend abbiamo dovuto buttare via tutto. Non abbiamo un introito economico, gli incassi praticamente non ci sono e questa è una cosa che veramente ci fa male. Ecco, è quello che vedete in questo momento, il nostro laboratorio di produzione, come potete notare è completamente vuoto perché i dipendenti naturalmente sono a casa, non sappiamo ancora che tipo di assistenza possano avere, se c'è un'assistenza di ferie piuttosto che di malattia, anche queste sono cose che vanno approfondite e speriamo che qualcuno ci pensi abbastanza velocemente.